Sì, siamo su Soma e io sono raffreddato, motivo per cui questo episodio è uscito in ritardo, motivo per cui ogni tanto mi sentirete forse starnutire sperando di riuscire a tagliarli tutti salvo dialoghi importanti mentre espello dalle mie narici i germi vari Comunque per farmi perdonare di questa pausa, nuova pausa che ho preso da Soma, faremo due video oggi Questo è The Long Dark e farò la modalità storia perché già l'ho provato in survival ma di questo ne parleremo nel video effettivo Perciò andiamo, eravamo rimasti al Dumbat, a cercare il Dumbat, continuiamo E dopo un caricamento lungo Eoni eravamo rimasti qua, oh mio dio ragazzi Voi non potete capire la sensazione strana nel vedere una grafica più o meno moderna e degli fps più o meno stabili dopo aver giocato a un sacco di giochi del Now, della PS2 e PS3 Aiuto E se ravvazzo la pena dai E se ravvazzo la pena dai Questo è tutto Allora, andiamo e... Ah, è vero Oh, non so Che vuoi che mi vuoi fare? Andiamo dentro il Dumbat, l'OmniTool può aprire la porta ora e arrivare nel Dumbat Allora, puoi metteremo dentro e prenderemo nel Dumbat Mi sembra più facile Sembra facilissimo Fin troppo facile, in realtà Andiamo La torcia? Ce l'ho, ok Ok, perfetto Ero la porta grande a destra, a sinistra A seconda di... Di dove la si guarda Eccolo il Dumbat Allora, io pensavo fosse effettivamente piccolo Ma dall'immagine dell'interno sembrava enorme Invece... No, è effettivamente piccolo Cioè, piccolo in relazione a... A noi, comunque Oh, oh Perché sta cosa mi puzza? Qua si apre un tunnel Oh mio Dio Ok Ok Accendiamo Ma non va? Pagmina Allora, qui Qua si Pagmina Ok Qua si Qua si Qua si Qua si Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. C'è capisco il wow e tutto ma... Perché tutti odiano Katherine e tutti sono finiti ad essere dei cazzo di robot? Vabbè, mi sa che adesso arrivo alla parte inquietante. Posso spostarla quando ci sono sopra? No, ok. Dai? Dai. Ah, non sapevo. Vabbè. Allora... Allora... Eh, perché effettivamente adesso... Non avendo qui il dumbass... Allora... 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 Non so se si nota, spero di no, ma è tutto un po' sfocato perché prima ho fatto una caduta che mi ha fatto danno. E quindi niente. Ah, però possiamo curarci. Meno male. Sempre più strana comunque la cura. Cosa c'è di interessante in questa stanza? Un pc, un omni-tool, cioè una postazione per l'omni-tool, corridoi brutti. Ok. Eh, un sacco di porte in cui andare, anche se questa è rotta. Questo cos'è? Ah, mi sa che... Una capsula di salvataggio, forse? No, forse per eliminare le radiazioni. No, aspetta. L'abbiamo già visto, questo coso? No, aspetta di no. Forse stava qua sopra, su questo tavolo. Giusto? Sì, stava su questo tavolo. Che cos'è? Sembra una batteria. Non è enorme, perché per stare su questo tavolo deve essere piccolo. Quindi, boh. Va bene. Mettiamo... Catherine, che ci dovrà dire tante cosette. Eh, eh, è che solo tu. Ah, perché non abbiamo usato subito questo avviso? Ah, è la l'Arc, quel cosetto, ecco lo che avevamo già visto. Ah, è questo. Ok. Però prima voglio controllare, innanzitutto qua. Dei codici. Un cifrario che non... Per adesso almeno non penso che mi serva. Forse ci servirà nell'Arc. Sfidere il segnale. Powerpacks. Shuttle to Omicron. Theta. Change to... HPS. Allora, ok. Quick stop at Omicron, then Tau, then 5. Let's do it. Ah, ok. Quindi, da Omicron sono partiti. Con l'eth sono andati nell'abisso. Hanno controllato se c'erano dei super-sedii a Tau e poi... Sono andati a Fee per lanciare Arc. Va bene. Immagino. Questo è il team. Wow, è così cool. È la tutta la gamba. Si. Una foto, in realtà? Chi ti salvai questo? Il mondo era morto. Grazie, Simon. Mi pensavo che essere un assolto non fosse inventato fino al 22. Sì. Ora lo so meglio. Va bene. Infatti, è qui Catering, mi sa che la stronza sei tu, eh. Non noi, sicuramente. Leggiamo un po'. E su tuta inizio. Istruzioni per l'uso. Cosa... Che è successo alle mie cuffie? Si sono torcigliate a caso. Sono state infettate anche loro dal Wow. Indossa la sottotuta in neoprene e l'imbraccatura completa. Controlla se sono presenti i danni visibili alla F. ETH, vabbè, no F. Iniziando dalle gambe fisse i componenti dell'imbraccatura precede verso l'alto. Blocca insieme i componenti mentre procede, infatti, vedere da un collega con schienale e pettorale. Vabbè, la tuta di Iron Man, praticamente. Tocca il pulsante blocco sul bracciale, sentire il rumore della tuta ermetica che viene inserita. Tenuta ermetica. La tuta inizierà a compensare la pressione e ad attingere al serbatoio di essigeno. Se la tenuta ermetica non si inserisce, fletti gli armatizzatori e riprova. Se continua a non funzionare, non tentare di ripararla. Contatta la manutenzione. No, dalle ETH sono molto pesanti e la tuta compensa il suo stesso peso. Avrai molto più forza di quanto credi. Fai attenzione, riguardo è fondamentale. Non trattenere il respiro, non restare fuori troppo a lungo. Non scendere troppo in profondità, non immergerti con attrezzature in avaria. Ok. Chissà perché avrai molta più forza di quanto credi, non mi piace affatto come premessa. So. Leggiamo un po' qua al PC cosa c'è scritto, va. Ah, è di Catherine questa cosa. Ok, ho deciso di finalizzare ARC con le scansioni che abbiamo. Mi dispiace per quanti volevano farne parte, ma non sono riuscito a farsi scansione prima della sospensione del progetto. Sono due mesi che non aggiungo una scansione, non so proprio come potrò mai riconquistare il sostegno che mi aveva dimostrato all'inizio del progetto. Mi dispiace. Non volevo certo che i miei compagni si suicidassero, non ne intendevo ingannare nessuno. Volevo solo riuscire a salvare qualcosa. Cosa rimane? Applicare modulo interfaccia. Sigillare capsule ARC, chiedere premesso a 4Q, dare le direttive a Ivashkin, Lindahl, Patterson e Hill. Proteggere la navetta per Omicron, raggiungere le esotute, dirigersi verso l'abisso con lo scalatore, radunarsi a Tau, dirigersi al sito di lancio, caricare la pallottola, lanciare ARC. Ok, vabbè, la pallottola sarà sicuramente ARC, immagino. Scusa. Vabbè, è rimasto da fare solo questo, quindi facciamolo. Credo sia rimasto da fare solo quello, ma immagino di sì. Questo cos'è? Cosa è questo? No, è solo un contatto examiner. Crossstar utilizza l'integrazione trattuale e le frasi di P-Len. Certo. Potrebbe essere inserito? Se avessi avuto quello che ti senti, sarebbe molto più facile a capire come ti capire sull'art. Un po' di... ...tight fit. Puoi riuscire l'on-switch? Amo? Beh, è letteralmente davanti a me, dire che ci arrivo. non lo andai Grazie a tutti. 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 No, posso andare su scene. Non riesco ad andare su scene perché 259 terra... ...o forse devo selezionarli tutti... No, un po' troppo, ecc... Devo fare un calcolo, forse... ...di quanto mi serve per arrivare a 1152... Ok, sono riuscito ad arrivare a 1152 su 1152... Però, a quanto pare non è questo il metodo. Io noto che quando evidenzio una di queste cose... Se ne illumina una in alto a destra... Però, anche selezionando quelle che si illuminano... Cioè, togliendo le tutte... E selezionando quelle che si illuminano... E cedo... Simulazione base richiesta tipo Soma... Paxoma... Paxoma richiede acqua, luce... Interfaccia scan... Luce... Pranzo... Ok... Quindi calore... E lucidin... Però va a pesare troppo... Quindi togliamo il sole pranzo... Mettiamo come luce... Ehm... La luna, dov'è? Ecco, luna piena... Fisico fluid... Troppo pesante, niente... C'è un altro tipo luce? No, solo qui due sono tipo luce... Ah... Non sto capendo, non sto capendo... Vediamo acqua... Proviamo il fiume... Fisico... Fluid... Troppo pesante... Resettiamo tutto, riproviamo... Vuole un tipo Soma... Tipo Soma c'è solo quello, quindi... Ah no, aspetta... La vegetazione è avanzata, ok... Tipo Soma... Sì, solo questo è tipo Soma... Ora... Sistema fisico atmosferico... Poi... Tipo acqua... Tipo luce... Interfaccia scan... Tipo acqua... Lago... Che pesa meno... E piena che pesa meno... Ora vuole un fluid... Fusidin... Gal... Fluid... Fisico mob... E già eccedo... Perché è il lago... Se togliamo il lago... E mettiamo... Il fiume... Ok... Ok... È giusto... Non so... Bene... Cos'è cambiato da prima... Rispetto a quello che ho messo... Però adesso va... Quindi mi sa che la... La... Il collegamento da fare era... Fiume... E una piena... Come luce... E... E ambiente... Perché tutto il resto era obbligatorio... Ok... Bene, bene... Quindi ora... Viene una... Ok... Quindi adesso creeremo un ambiente... Con un fiume... Oddio... Non mi va di utilizzare uno di loro... Direi di utilizzare... Il dummy... Però c'è Munshi... Ah... Ok... Ok... No vabbè... Ha ragione... Ha ragione... Che è quello che avevo detto io appunto... Però... L'ho voluto fare comunque perché... In chi c'è Munshi... Che è quello che ci ha fatto la... La scansione all'inizio del gioco... Ok... Dovevo solamente... Fermare su dummy... Ne avevo la sensazione... Però non sapevo se effettivamente... Era lui o era un codice... Che serviva dopo... Un... Di anni asciene? Ok... Sì, ovviamente, così preciso, così perfetto. Non c'è nulla come attraverso il vostro lavoro. Cosa? Oh, certo. Ci siamo pronti? Possiamo andare a Omicron e prendere il mio nuovo giusto? Si, dovremmo andare. Vuoi portare questo arc come backup? Non, questo non funzionerà, questo è solo un prototipo. Bene, preferisco andare a viaggiare. Andiamo, non dimenticare a me prendere con te. Qua perché non mi piace che vada avanti a caso. Va bene. Il resto non si può aprire, non si attiva, quindi questo non è una memoria. è un po' di domanda. Questo, è un luogo distante. Non lo iso! Quindi, la prima volta che aveva avanti che verano, No, non è proprio la prima. No, non è un luogo allo. Ero, non lo iso. Inserisimo sia l'altro più lavoro e l'uomo. Ero. 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 Ma è 1 Credo Oh cazzo Straski Questa è la porta di Straski Ok Del sangue La cosa non mi piace Allora torniamo un attimo indietro Vediamo cosa c'era lì C'è una cosa che cammina sopra di noi Ok questa è la stessa strada Quindi ci dobbiamo passare per forza Lì c'è una memoria Qua è chiuso Perfetto ragazzi Allora la prossima volta Visto che io direi di fermarci qua Lo so sta andando un po' a rilento insomma Però ogni volta c'è sempre qualcosa da scoprire Anzi direi Direi di non fermarci qua Direi di andare un po' avanti Vedere un attimo qua dentro cosa c'è magari Non si rompe? No secondo me si può rompere Secondo me si può rompere Anderson, Sarang Walchess e Chun Ok è la sala Tra virgolette degli esperimenti della banda Come la chiama lei Secondo me ci servirà una cosa di pesante Per aprire quella porta In modo che questi rumori non piacciono per nulla comunque Madonna Chissà chi sono poi loro tra l'altro Perché secondo me sono Cioè è quasi sicuro che siano tutte persone che conosciamo in qualche modo Ok Questo ci servirà dopo sicuramente Ok Ok ci serve un connettore Ok ci serve un connettore Strowmaner Brand Onde sei? Mi sapevo di mano Sono in sector Rd4 Avete fatto tutti i suoi Sì Siamo sicuri per ora Ma devi andare a rinforzare Siamo a rinforzare dove siamo E vengono per noi Non preoccuparti Le stelle sono bloccate E ho ucciso l'elevator Ho portato il chip di connettore Nel lock C'è un'altra cosa C'è un'altra cosa E' un'altra cosa Un'altra cosa per mantenerti tutti sicuri Take the shuttle Go to Omicron Goddammit E' un'altra cosa E' un'altra cosa Tu hai bisogno di essere un'altra cosa E' un'altra cosa E' un'altra cosa Buona notizia Ok siamo nel piano del laboratorio Madonna i rumori Ma sembra enorme sto posto Eh no ragazzi Qua c'è tanto da vedere Questo è il materiale per il prossimo episodio Quindi direi Salviamo qui Ci vediamo probabilmente Dopodomani Perché domani ci sarà The Long Dark Insieme a Soma Caricherò entrambi insieme Quindi voi li vedrete insieme Io li vedrò Uno e poi l'altro Il giorno dopo E Beh Che dire Questi episodi sono sempre Pieni di plot twist Anche se magari lentini Magari stanno davanti lenta La serie Anche se ho visto su youtube Che ci sono youtuber Che l'hanno portato avanti Per 40 episodi Anche 30 episodi Direi che comunque Stiamo avanzando Abbastanza bene Pensavo fosse molto Più corto Pensavo che in un paio d'ore Io l'avrei finito Questo gioco Tre ore E invece Beh E' stata una bella Una bella sorpresa Mi sta piacendo veramente tanti Ci sentiamo ragazzi Ciao ciao